Ora che sono diventato paziente esperto UPATI grazie a questo corso impegnativo ma molto formativo, grazie comunque alla presenza di relatori che mi hanno dato la possibilità di mettere in ordine tante informazioni che avevo, sicuramente una delle cose che farò è quella di condividerle con i membri dell'associazione che rappresento da quasi 20 anni, che è l'associazione italiana osteogenesi imperfetta e che comunque possono essere di supporto e d'aiuto per poter affrontare al meglio tutti i nuovi progetti di ricerca scientifica e di contatto anche col mondo accademico.